Il suono caldo ricerche L'Italia è una penisola nel Mediterraneo Un giorno se mai capitasse di poter far costruire uno strumento per me Che suono dovrei, o sarebbe a me più consono Un giorno se mai capitasse di poter far costruire uno strumento per me Che suono dovrei, o sarebbe a me più consono Le mie origini, il suono del vento Mare adriatico Il suono del vento Mare adriatico Mia madre da bambino mi insegnava a fare il segno della croce Prima di immergermi nel mare Mia madre da bambino mi insegnava a fare il segno della croce Prima di immergermi nel mare Un giorno se mai capitasse di poter far costruire uno strumento per me Che suono dovrei, o sarebbe a me più consono Il suono del vento Mare adriatico Mare adriatico Mare adriatico Il suono del vento Mare adriatico Mare adriatico Mare adriatico Mare adriatico Grazie a tutti